Erika Vivai, azienda vivaistica Mancinelli L'azienda si occupa dal 1960 di ciò che è legato al mondo vivaistico Lo showroom offre 10.000 metri quadri dove trovare tutto l'occorrente per il vostro giardino articoli per tutti i gusti come accessori per illuminazione, irrigazione, barbecue e arredamento da esterno Realizziamo impianti, trattamenti antiparassitari anche su panne, antizanzare e gestione di parchi pubblici e privati Ad Aranova, in provincia di Roma, in via Pompeati Lucchini 158